Se non ci fosse stata lei io non mi sarei mai sposata, almeno non con Jack, questo sicuramente. Quando l'ho conosciuta io ho cercato di fare un po' lo splendido, facevo le battute, ciao lei ti hai visto, mi sono messo con tua sorella, hai visto che hai ragazzo carino e la prima risposta che mi ha detto è stata, io pensavo meglio. Perché Jack era uno un po' superficiale. Partivo da un interesse sulle cose pari a zero e non mi ritrovavo negli amici, nelle persone, mi sentivo sempre un po' indietro. Gli ho detto o tu adesso mi dici che c'è una cosa che nella vita ti colpisce veramente, per cui vale veramente la pena fare tutto, oppure ti saluto. Lì mi ha detto io quando sono con tua sorella sto bene, mi sento veramente me stesso. Mi sentivo più me stesso, più a mio agio. Da quel giorno lì gli ho detto va bene, allora pensiamo a un percorso che tu possa fare in questa direzione, un percorso concreto. Ho iniziato a fare un corso da OS, da operatore sottosanitario, e da lì pian piano è partita tutta l'avventura, dove sono arrivato a lavorare come educatore in un centro semiresidenziale con bambini autistici. Per il mio lavoro la lette è stata fondamentale, mi ha fatto capire veramente la portata delle cose, le cose essenziali per me in quel momento lì.